Allora, Roberto Battestini, e qui proprio, sì sì, qui si entra in un'arte che è quella, ben arrivato. Salve, grazie. Roberto Battestini, a caro sangue, guardate questo libro, compratelo, sfogliatelo, leggetelo, perché questa è tutta una storia fatta da un fumettista, disegnatore, insegnante d'inglese? Sì, insegnante d'inglese presso il Bellisario, misti con i Bellisari di Pescara. Pescara, è un uomo che ha a che fare con la bellezza del disegno, del racconto, da tempo. Quando è nata questa passione? Beh, intorno a, potevo avere 12, 13 anni, sì. Ero in collegio, quindi avevo questa passione per il disegno e mi piaceva proprio raccontare a fumetti. Hanno fatto bene quindi a regalarle, no? Quando si dice ti do i colori. Sì, 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 hanno fatto benissimo. E tu ti metti a disegnare. Allora, io cerco Roberto di parlare di questa storia e voglio parlare di questa storia con tutto il rispetto che questa storia merita, perché questa è la storia della sua vita e nella storia della sua vita e della sua famiglia ci sono due fratelli, due fratelli che erano, perché non ci sono più, tanto più grandi di lei. La distanza era... La distanza con l'ultimo di 14 anni. Di 14 anni. Vissuta con grande coraggio della sua famiglia, con grande forza. Sì, in effetti, sì. E che era una realtà ruvida, estremamente ruvida, perché chi erano i suoi fratelli? O meglio, che cosa hanno fatto i suoi fratelli? I miei fratelli purtroppo hanno avuto, diciamo, un ruolo importante negli anni 70-80 nella cronaca della mia regione, che era Abruzzo, e nella cronaca delle Marche. Dico, purtroppo, perché io ero nato dopo 14 anni dall'ultimo, di conseguenza ho vissuto questa storia come un luogo nel quale io mi trovavo stretto, mi trovavo, diciamo, a disagio. In effetti io poi l'ho saputo tramite un compagno di scuola, all'epoca i miei genitori mi avevano tenuto giustamente nascosto. Però, ecco, visto che negli anni questa situazione mi ha dato un'identità rispetto alla quale prima fuggivo, cioè il fatto di avere questa grossa sofferenza, mi aveva causato all'inizio una grande fuga e successivamente, nel momento in cui ho accettato questa storia, ho visto che realmente poteva essere la base per la mia crescita come uomo, come padre e come marito. Ed è bellissimo quello che lei dice. La narrazione capite perché è a caro sangue. E ci vuole, guardi, un coraggio etico prima di tutto, nel senso che in questo libro lei parla di suo padre. Parla perché noi dobbiamo immaginare, se la dobbiamo immaginare bambino, se la dobbiamo immaginare di fronte alla necessità di scoprire veramente cosa fosse e cosa stesse accadendo, ci viene da pensare, eccolo qua, ai suoi genitori a come devono aver vissuto tutto questo, in particolare alla figura di suo padre. Sì, in effetti la figura di mio padre è stata una figura fondamentale perché anche attraverso i suoi silenzi riusciva a trasmettermi comunque una fiducia, un desiderio di cambiamento. Tra l'altro lui mi ha fatto entrare all'epoca nel cammino neocatecomenale dove io ho trovato anche una risposta a questa sofferenza. Infatti devo a lui il fatto di essere entrato in questo cammino, che oggi continuo con la mia famiglia che è composta da una moglie e otto figli. Lei ha otto bambini? Sì, esatto, otto bimbi. Che distanza hanno? È la più grande a 24 anni, quasi, a marzo, e l'ultimo ad aprile ne farà otto. E insomma, è un bel gruppo, lei, ora noi parliamo di eventi tragici che hanno riguardato sia questa banda che aveva la particolarità, se vuole, di portare proprio il proprio nome. Sì, in effetti, curiosamente... Invece di nascondersi o di darsi un codice, di darsi un altro... Penso che all'epoca fosse stato dato dai quotidiani, cioè avessero, come dire, etichettato questa banda con il mio cognome, quindi... Per me all'epoca è stata dura, perché comunque andare a scuola, vivere in una realtà nella quale appunto venivo associato a questa banda, per me è stato un po' pesante. Però, ripeto, per me è stata realmente... Io, infatti, oggi qui sono un po' come testimone e questo libro vuole essere... E c'è anche una grande testimonia anche a sua mamma, eh? Certo, sì. Con il libro in braccio. Esatto. Sì, vorrei proprio sottolineare il fatto che comunque per quanto la storia a volte possa essere magari dura e foriera di sofferenza, di angosce, c'è sempre una speranza, la possibilità di trasformare il male in bene. Ovviamente, lei questo... Ho sentito la necessità di farlo. A parte che lei ha una penna, ha una matita, un colore, non so come dirle che... Ma non so, arrivo buona ultima, nel senso, la conosco ovviamente, dico arrivo buona ultima, rispetto a tutti coloro che vedono il disegno di Battestini davvero un valore. Però c'è tutto il suo coraggio e c'è tutto il... anche se vuole il dovere, ecco perché parlavo di una questione etica, cioè il dovere di narrare tutto questo, anche per i suoi figli. Sì, infatti. Anche per altri ragazzi, anche per i suoi ex compagni di scuola. Anche, certo. Questo è stato, questo è accaduto. Lei non nasconde niente, il fatto che ci siano dei pastelli, dei colori... Sì. Mi scusi, io dico pastelli, forse sto sbagliando, insomma... Sono, sì, acquerelli. Esatto, la lavorazione è diversa. Prego. Questo era un libro dovuto? Sì, in effetti sì, è vero. È un libro dovuto, in particolare ai miei figli, in particolare alla mia famiglia d'origine e anche a tanti ragazzi. Infatti io e mia moglie siamo impegnati nel post-cheresima proprio in parrocchia e quindi per me è importante che anche in questa attività ci sia una... un senso profondo, il fatto di saper dare, portare una speranza anche a ragazzi che magari vivono sempre momenti di difficoltà. Forse che io all'epoca non ho avuto, ecco, oggi mi piace essere genitore anche di altri ragazzi per sostenerli ai momenti di difficoltà. Di estendere. Con mia moglie ovviamente perché da solo non potrei... Ci vuole sempre, guardi, la famiglia è quella, no? E quindi ci vuole sempre questa... È vero, è vero. Questo... Sì, Raffaella è fondamentale. Avere un unico colpo di remo, perché questo vuole essere il senso. Le chiedo ancora e me lo permetta. Prego. I suoi fratelli non ci sono più, hanno avuto una fine tragica e... Lei ha mai pensato che avrebbero potuto avere... Lei che oggi è papà di otto figli, una vita diversa, avrebbero potuto essere persone... Con una famiglia, con altri interessi, con altre... Sì, ci ho pensato, ovviamente ci ho pensato, certo. In questo vi mancano molto, però devo dire che c'è un fatto che è quello della certezza della risurrezione che in qualche modo mette in contatto con chi è stato sulla Terra per un periodo che poi alla fine è durato quello che doveva durare e io credo che ci si rivedrà. Io penso che attualmente quello che è importante per me è curare questo passaggio, questa possibilità di passaggio che vediamo nella fede tra il mondo di noi che viviamo, respiriamo e altri che invece ci aspettano in un altro momento. Quindi per me, a prescindere dalla durata della vita, che poi è la fine del Dio che decide, è importante sapere che c'è una vicinanza che va ben oltre la presenza fisica. Quindi sicuramente sarà... Vedremo come sarà. Perfettamente d'accordo con lei. La ringrazio anche perché queste domande, senza ipocrisia, però si fanno sempre in punta di piedi perché io la conosco oggi, le ho stretto la mano prima e nonostante questo sia il mio lavoro io non ho nessun diritto di entrare a gamba tesa nella sua esistenza, quindi mi creda, cerco di muovermi con la massima cautela che è dovuta per educazione e per rispetto. E la ringrazio. E la sua mamma, la sua mamma con questo libro stretto al cuore, la sua mamma è stata contenta di vedere... La mia mamma è stata molto contenta perché in primis c'è da dire che mia madre non legge fumetti. Questo però è incredibile, detto da un fumettista è terribile insomma. Mia madre non legge fumetti perché dice che fa confusione, non riesce. Però questo l'ha voluto leggere, infatti mi ha detto che una sera è rimasta fino a tardi con gli occhiali da vista, potenziati, non so, con delle luci speciali per riuscire... e ha detto che la mattina dopo si è svegliata felice. E questa è una cosa che a me... Non è poco, l'ho detto. Non è poco. Che a me ha fatto molto piacere anche perché devo dire che nella mia famiglia non si è molto condivisa questa storia e quindi in qualche modo ci è rimasto sempre un po' molta sofferenza nascosta, molte situazioni un po' di dolore, però ho vissuto forse in maniera molto privata e quindi ho sempre avuto forse difficoltà ad avvicinarmi a mia madre in questo e il fumetto è stato un modo per poterlo fare... Lei è stato proprio bravo, se lo lasci dire, è proprio stato... Guardi, veramente quei gesti di coraggio, no? Nonostante questo sia... E proprio perché questo è il suo lavoro... Sì. E' un suo lavoro che porta a Cate Comics. Attenzione, Cate, proprio Cate Comics, che a me sa di catechismo, non so come dire, siamo collegati, siamo su quel punto? Sì, sì, esattamente sì. Praticamente è una collana che è nata nel 2009 con l'interessamento di Mara Scarpa delle edizioni deoniane di Bologna, che appunto ha visto del buono in questa serie di fumetti che racconta l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento e i profeti e da lì appunto è nata questa collana. Ma che bella idea! È uno stile completamente diverso, ovviamente perché... No, scusate, posso tornare a quella... oggi faccio impazzire la mia regia, chiedo scusa alla tavola di prima. Allora, la seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli. Tadà! Cioè, meraviglioso. Acce, Giuseppe! E' stupendo così! Eh sì. È una cosa che... Bisogna anche saper vivere dai fumetti. Assolutamente. Ma lei si rende conto di fare questo per i lettori, chiaramente, per i suoi giovani lettori di questa... di queste tavole, però lo fa anche per i grandi. Sì, anche. Perché abbiamo tutti il piacere di leggere i fumetti. Sì, indubbiamente sì. Infatti a questa serie è stata riconosciuta una validità dai 6 ai 90 anni, quindi va bene. Vai, ci rientro! Evviva! Allora, senta Roberto, io innanzitutto la ringrazio tanto, assai. Un'ultima domanda perché con il nostro Giorgio Brancia e con la scatola della positività dei Bright Side stiamo per entrare in una scuola, l'istituto complessivo di Cerisano in provincia di Cosenza. Sono i ragazzi che cercano le buone notizie. I suoi allievi a scuola... Sì. Lei li incanta mai con qualcosa di disegnato, qualche tavolo? Io li incanto con più modalità. Metto la modalità disegno, la modalità chitarra, quindi cerco sempre di creare delle novità all'interno della classe, che altrimenti rimane un luogo spesso definito non luogo. In realtà può diventare un luogo di grande divertimento e di grande passione. La domanda è seria. Lei accetta ripetenti? In che senso? Vengo anche io a scuola. Sì. Li accetta? Perché nel caso ci sono. Va bene. Roberto Battestini. Fino a tre volte si può. A caro sangue, fino a tre volte si può. Rientro ancora nella categoria. Grazie a Roberto Battestini che ci ha portato questa testimonianza importantissima della sua vita. E del Brightside, istituto comprensivo di Cerisano in provincia di Cosenza, questi meravigliosi ragazzi ci portano buone notizie, che ricordatelo, fanno notizia. Sentiamoli. Secondo me le buone notizie sono molto importanti per migliorare il pianeta. La mia notizia locale l'ho presa dal sito www.corrieredicalabria.it, la festa della montagna a Cerisano. Questo evento fu ideato dal defunto professore Longo, molti anni fa. Si svolge alle falde dell'ex vulcane Motocopulso e di fronte alle grandi montagne dell'Asila ha avuto una grande partecipazione di circa mille persone. Ho scelto questa notizia perché è bello che si svolga una manifestazione del genere anche nel nostro paese e che si faccia in un ambiente naturale come la montagna. La mia notizia è una notizia nazionale tratta dal sito www.legambiente.it, Milano città leader per mobilità condivisa. Milano è nella top 25 di ecosistema urbano 2018. Questa notizia rappresenta l'Italia come un paese che spende bene le sue risorse, che si evolve e che pianifica le trasformazioni future. L'ho scelta perché secondo me la mobilità condivisa contribuisce a non inquinare l'ambiente. Allora, la mia è una notizia internazionale e si chiama Francia, 18.000 studenti rifiutano di lavorare per aziende che inquinano. 18.000 universitari hanno firmato un manifesto studentesco per un risveglio ecologico nel quale chiedono un cambiamento. Per questo, terminati gli studi, nessuno di loro vorrà lavorare per aziende che inquinano. Mi sembra davvero un modo interessante per dimostrare una solida consapevolezza ecologica. La scatola della positività del blog di The Bright Side. Ogni tanto, vedete che devo andare ripetente dal professore? Eh, mica lo dicevo per scherzare. Invece serissima dico finestre aperte. Torniamo tra poco con l'ora solare, raccontiamo una storia meravigliosa. Grazie. 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 Grazie.